Solignano, 2000, La Freccia della Laguna, 2002, Crevalcore, 2005, Viareggio, 2009, l'elenco anche solo degli ultimi vent'anni sarebbe molto più lungo, fino alla Puglia, tre giorni fa. Quante potenziali corato ci sono ancora oggi in Italia e nel Lazio? La questione su cui proviamo a fare chiarezza. In Italia solo una parte della rete è gestita da FS attraverso rete ferroviaria italiana e proprio su quella rete, dopo la tragedia di Crevalcore, ci fu un'accelerazione per installare un sistema che potesse correggere un eventuale errore umano. Questo sistema è un sistema che si chiama SCMT che controlla la marcia dei treni. Nel momento in cui c'è un errore da parte del dipendente, del lavoratore, questo sistema interviene e corregge l'errore umano. E questo è il quadro dell'infrastruttura nazionale. Dopo abbiamo un altro quadro che è riferito alle reti gestite a livello regionale, ex concesse. Le reti regionali, l'altra metà dei binari italiani, come quelli di Andria, un decreto legge 112 del 2015, arrivato già in ritardo tre anni dopo una direttiva europea che stabiliva Paletti in tal senso, prevedeva il passaggio di queste reti, dalla gestione, Ministero delle Infrastrutture, all'Agenzia Nazionale di Sicurezza, la stessa che si occupa di quelle FS, e che per capirci avrebbe reso obbligatorio l'installazione del sistema SCMT. Passaggio mai avvenuto. Arriviamo nel Lazio, nella nostra regione. Quante tratte locali sono a rischio per l'obsolescenza del sistema? Noi abbiamo una tratta che è la Roma Viterbo, che è gestita dall'Atac sotto, diciamo così, la concessione della regione Lazio. Questa società, questa linea di tratta, non ha le garanzie, le clausole di salvaguarda, le norme di sicurezza che hanno tutte le altre reti ferroviarie. Una rete molto simile, essendo in gestione, dove purtroppo è successo tragico incidente in Puglia. È l'unica situazione nel Lazio dove potenzialmente potrebbe verificarsi? Le altre, però, insomma, sono molto limitate nei tratti. Può essere la Roma a centocelle, però sono linee pressoché urbane. L'unica linea che possiamo identificare e rapportare con quello che è successo in Puglia è quella che gli ho detto, la Roma Viterbo. Tradotto, un treno che gira sulla Roma Viterbo, oggi, su binari RFI, non potrebbe neanche partire. Il binario unico rappresenta il 60% del paese. Vecchia storia, la sicurezza però costa investimenti. Martedì, i sindacati delle ferrovie sono stati convocati dal ministro del Rio per discutere proprio di sicurezza, promessa per la quale oggi Orsa ha deciso di ridurre, nella durata e nelle proporzioni, lo sciopero proclamato ieri. Tanto che la circolazione dei mezzi a Roma in mattinata è stata pressoché regolare. Il treno è un mezzo sicuro su determinate linee, sugli altri linee occorrerà fare in fretta perché quella sicurezza sia uguale, perché non può esserci una sicurezza di serie A e una sicurezza di serie B. Non ci possono essere i treni ad alta velocità che hanno sicurezza, i treni del trasporto regionale che ne hanno altre. Un cittadino, quando sale sul treno, prende il treno, non sa se quel treno è gestito con un sistema di sicurezza o meno. Per l'italiano quello è il treno e quel treno per noi deve avere la stessa sicurezza indipendentemente dalla rete su cui viaggia.